Risera Jet e Raritas P.F. praticamente fuori corsa. L'errore di Ramira. Sacco della macchina, Revasca Jet, sopravanza, Rania Bypass. Ma non riesce nella conversione alla corda veloce. Anche Rachele Caff insiste, Revasca Jet, che passa dopo 200 metri in 14.1. A largo chiede strada Rachele Caff a metà della prima curva. L'errore tratta, un paio di lunghezze, segue Rania Bypass, che precede Reda Vald, i 400 veloci in 28.5. Davanti alle tribune si ritrae Rachele Caff. Alle spalle di Revasca Jet, dopo 600 metri completati dalla leader, l'ordine del 43.4. L'andatura si mantiene piuttosto allegra all'imbocco della seconda curva, con Revasca Jet al comando. In seconda posizione Rachele Caff accenna a spostare Rania Bypass, poi Reda Vald e Reality Matley, dopo 800 metri in 59.7. Nonostante una frazione tranquilla in 16.2. Revasca, Rachele, Rania che ritorna in terza posizione, poi Reda Vald risale a largo Ruggia da Caff. Quando si va verso il chilometro iniziale è trottato in 1.15.5. Revasca Get in evidenza al mezzo giro conclusivo, nel mezzo avanti a Rachele Caff. La mossa in terza corsia da parte di Ruggia da Caff che in breve mette via Rania Bypass. Bucata anche da Reda Vald ai 1.002. In 1.39.15.4 di là, Revasca che ha sparato. Ruggia da in segue, Rachele che galoppa, Reda Valdone terza. Quando si va a 2.50 alla conclusione, Revasca Get che prende un margine netto all'ingresso della vita d'arrivo. In seguita da Ruggia da Caff e da Reda Vald, Revasca Get in vantaggio ma è stanca. Ruggia da in segue, metà addirittura, Revasca Get che nel tratto conclusivo riesce a portare ancora a casa la vittoria. Ruggia da Caff e seconda al terzo posto Reda Vald. 2.25.31.5 la chiusa a 1.16.5 la media al chilometro. Bella vittoria a dire, Revasca Get con Giuseppe De Filippis conquista il comando in 200 metri scavalcando. Prima Ruggia da Caff e respingendo poi Rachele Caff. Buona natura per tutto il percorso, 1.16.5 come è detto il riferimento cronometrico della vincitrice. Una pain chip, record anche migliorato in carriera. Seconda Ruggia da Caff, terza Reda Vald. Fuori quadro invece la favoritissima Rania Bypass, pertanto 2.11.8 l'arrivo ufficioso della quarta.